Bene, sabato giochiamo contro Zogreen che praticamente ha gli stessi nostri punti, anche se loro hanno vinto una partita in più rispetto a noi. Quindi sarà un confronto alla pari e chiaramente ci giochiamo un po' un primo confronto sulla salvezza perché quel che riguarda noi penso che siamo in una buona fase, stiamo crescendo e dobbiamo chiaramente migliorare su quello che sono le situazioni di gestione della palla e quindi come ho già detto tempo fa dobbiamo praticamente iniziare a ridurre i nostri errori senza snaturare il nostro gioco. Stiamo vedendo e valutando alcune cose e devo dire che in allenamento si stanno vedendo delle belle cose, si sta vedendo quello che praticamente viene richiesto a livello tecnico e tattico. Abbiamo fatto un bel set a la pari con Piadena e questo mi fa ben sperare. Rientra finalmente di giugno come secondo palleggio anche se si rimane scossa, devo dire che Conti non ha assolutamente sfigurato quando è esordito in CIA, ha fatto il suo dovere e quindi complimenti a lei. Pertanto noi siamo pronti per ospitare qui Zogrine e speriamo bene di riuscire a portare dentro gli aspetti che stiamo allenando e vedere questa squadra e sapersi comportare con personalità e incisività come fanno nei campionati giovanili. Mi auspico un po' questo e che pian piano maturiamo sotto l'aspetto di star dentro costantemente nella partita senza innervosirci o avere sempre la pretesa di voler o dover fare punto ma avere anche la pazienza di saper giocare alle palle senza farci prendere al patema.